Musica Tragedia all'alba della domenica di Pasqua in Abruzzo, dove una ragazza di 20 anni, Gioia Muliere, è morta in seguito a un incidente avvenuto a San Benedetto de Marsi, in provincia dell'Aquila, mentre viaggiava in auto insieme al suo fidanzato che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ad Avezzano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altre vetture. Stando alle prime ricostruzioni, l'automobile con i due giovani a bordo procedeva lungo la strada quando improvvisamente ha sbandato, finendo per uscire dalla careggiata, andando poi a schiantarsi contro un muro. Non è ancora chiaro chi sia stato ad avvertire i soccorsi a seguito dello schianto. Sul posto però sono accorsi il personale medico del 118 e l'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri del comando locale. Gli operatori sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita della giovane ragazza a bordo, la ventenne Gioia Muliere, appunto originaria di Avezzano, città nella quale aveva frequentato l'istituto tecnico commerciale Galilei. Come detto, poi è rimasto ferito il fidanzato della vittima che si trovava alla guida della vettura. Il ragazzo è stato preso in carico dai medici che lo hanno trasportato all'ospedale Santi Filippo e Nicola, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Toccante il messaggio scritto su Facebook dalla sindaca di Luco De Marsi, Maria Rivera De Rosa. Questa giornata, che avrebbe dovuto essere di festa, ci ha portato purtroppo una notizia terribile. Alle porte del giorno il destino tragico ha spezzato nel fiore della giovinezza la vita di Gioia. Una meravigliosa ragazza. Dinanzi a queste male tragedie ogni parola non può che risultare vuota, insufficiente. Possiamo solo stringerci idealmente alla famiglia muliere nello strazio indicibile, pregando che un aiuto, una forza superiore la sostenga e la conforti in questa prova davvero in mane.